Casualmente, casualmente, mi scadeva la carta d'identità quest'anno, da privato ho chiesto l'accesso per avere l'appuntamento al Comune di Roma, il primo febbraio. Ho avuto questo appuntamento a maggio. Io ricordo che quando avevo fatto la prima mia carta d'identità, magari più brutta perché era cartacea, ero andata il giorno che volevo io a fare una bella fila, avevo fatto 20-30 minuti di fila e l'avevo avuta. Invece mi raccontano tra l'altro gli avvocati del mio studio che avendo pure loro questo appuntamento così distante, quando capitano udienze in coincidenza fanno istanza di rinvio perché non possono perdere l'appuntamento. Allora io dico, ma se la digitalizzazione diventa una cosa di questo genere, è ovvio che non andiamo da nessuna parte.